Abbiamo la passione della fotografia e ha cominciato a frullarci in testa l'idea che potremmo anche cominciare a farci pagare per fare qualche lavoretto, ma non abbiamo la minima idea di quanti soldi chiedere ai nostri clienti. Nel corso di questo video vado a raccontarvi come è stato negli anni il mio approccio al prezzo e cerco quindi di aiutarvi a capire che cifre chiedere ai vostri clienti quando andate a proporgli un servizio fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni per mestiere. Di preventivi ne ho fatti tanti, ovviamente la maggior parte sono stati rifiutati, quindi è comunque una piccola percentuale di clienti quella che riusciamo a portarci a casa per una serie di motivi che vedremo nel dettaglio in questo video. Prima di cominciare io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Siccome in tanti vi siete iscritti e l'algoritmo è un po' penalizzante in questi mesi, io vi chiedo anche di mettere un like a questo video e di condividerlo con un amico fotografo che potrebbe beneficiare di questo tipo di contenuto. Andiamo a incominciare. Innanzitutto vorrei farvi capire una cosa. Un prezzo giusto universalmente non esiste. Cosa voglio dire con questo? Il tipo di servizio che noi offriamo non ha lo stesso prezzo per tutti. Capite bene che se viene la mia vicina di casa a chiedermi una foto e se viene il signor Nike, il signor Adidas a chiedermi esattamente la stessa foto, la cifra che gli farò sarà ben diversa. Quindi la cifra dipende innanzitutto, a mio parere, dal cliente. La prima abilità che dobbiamo cercare di sviluppare è quella di cercare di capire quanto il nostro cliente è disposto a spendere per il tipo di fotografia che ci sta chiedendo. E il nostro scopo come fotografi, professionisti, semiprofessionisti o anche semplicemente se vogliamo guadagnarci qualche soldo, quello che noi dobbiamo cercare di fare è di chiedergli la cifra più alta possibile che loro sono disposti a spendere. Se un cliente aveva un budget di 1000 euro e noi gliene chiediamo 100, quello si frega le mani perché ne ha risparmiati 900. Magari abbiamo ottenuto il lavoro, ma in realtà abbiamo perso 900 euro, quindi non ce la siamo giocata bene. Ovviamente la mia vicina di casa avrà un budget molto più risicato del signor Nike e del signor Adidas, quindi di conseguenza io cercherò di spillare 100 euro alla mia vicina di casa e cercherò di spillare 10.000 euro al signor Nike e al signor Adidas. Giusto per darvi un'idea di proporzioni. Ovviamente a un privato che vuole una fototessera si può chiedere una cifra limitata, a una grossa azienda che fatturerà magari milioni, se non miliardi con la nostra fotografia o con il nostro lavoro, possiamo chiedere delle cifre molto più alte. Un altro fattore determinante è dove ci troviamo. Perché per esempio io lavoro a Milano, comunque Lombardia, Nord Italia, e mi rendo conto, proprio parlando anche con voi, che i prezzi sono molto diversi lungo il nostro stivale. Quindi se io mi trovo a lavorare a Milano e faccio dei prezzi da Milano, questi prezzi a potenza non vanno bene, sono completamente fuori mercato, nel senso che sono troppo alti i prezzi di Milano. Attenzione, viceversa. Molti di voi mi hanno detto che al Sud, come fotografi di matrimoni, si guadagna molto bene. Nella mia esperienza, come fotografi di matrimoni, si guadagna molto meglio al Sud piuttosto che al Nord. Perché? Perché al Sud investono di più per le foto dei matrimoni. Qui al Nord siamo un po' più freddini, ci interessa di meno questa cosa. C'è zia Ernesta col cellulare che fa 6 miliardi di foto al matrimonio, comunque che non perde la sposa un attimo, la segue anche al bagno a momenti, e quindi noi nordici siamo meno propensi a spendere più di 1300 euro per un servizio fotografico di matrimonio, mentre al Sud ho persone che mi hanno detto che chiedono tranquillamente 4000 euro per le foto di un matrimonio e gliele danno. Questo per farvi capire che dove vi trovate ha un'influenza molto pesante sulla cifra che potrete chiedere e sulla cifra che i clienti saranno disposti a darvi. Questo giusto per dire che se siete al Nord e chiedete 4000 euro per le foto di matrimonio probabilmente non vi li danno e chiamano un altro che costa di meno. Viceversa, attenzione, se siete al Sud e chiedete 200 euro per le foto di matrimonio parimenti probabilmente venite scartati, perché c'è anche questo da dire. Se chiedete troppo poco date la percezione di non essere capaci. E quindi se io ho sentito due fotografi e uno mi ha fatto un preventivo da 2000 euro e voi mi fate un preventivo di 200, io dentro di me penso questo qui da 200 però vale un decimo di quell'altro e quindi forse non ho voglia di rischiare per un giorno così importante. C'è anche questo da mettere sulla bilancia. Dovete tenere bene a mente che se voi chiedete troppo poco, se non avete capito quel cliente quanto era disposto a spendere e chiedete troppo poco, date l'idea di uno che non è capace. Attenzione, magari è proprio così. Magari voi non siete capaci perché avete appena cominciato e state prendendo i primi lavoretti. In quel caso ci sta a chiedere poco. Però anche in quei casi cercate di non chiedere troppo poco perché ricordatevi che magari ce ne sono 10 come voi che hanno appena iniziato e che non sono capaci, tutti che sono andati lì a fare il loro preventivo. È una gara a ribasso ovviamente, però se c'è uno che ha chiesto 1000 euro, ce n'è uno che ne ha chiesti 500, ce n'è uno che ne ha chiesti 100 e ce n'è uno che ne ha chiesti 50 e magari c'è anche il cugino che lo fa gratis. Secondo me alla fine si spara nel mezzo. Si prende un preventivo da 450 euro, una cosa del genere. Ed è quel preventivo lì secondo me che dovete beccare. Io personalmente sparo 2000 perché sono arrivato a un punto nella mia vita e questo è un altro fattore. La tua esperienza personale determina anche il prezzo che puoi permetterti di fare. Ovvero all'inizio ovviamente hai pochi clienti e quindi ti fa anche comodo avere dei clienti anche se ti pagano poco per farti conoscere un po'. Quindi ci sta magari che fai una cifra più risicata o che vai anche gratis una volta. Tanto poi sono scelte individuali. Ci sta che lo fai una volta, non tutta la vita però perché sennò tu muori di fame, i tuoi clienti ti ringraziano, pacche sulle spalle, foto bellissime, tanto tu continui a morire di fame. Dopo anni che lo fai però la cifra che chiedi cambia ovviamente. Io oggi non esco più per le cifre per cui uscivo quando ho iniziato. Magari quando ho iniziato mi dicevano guarda mi servono le foto di queste robe, vieni in negozio e me le fai e io andavo per 50 euro. Adesso per 50 euro io ti do un consiglio per telefono per 50 euro. Se vuoi che venga effettivamente a farti un lavoro le cifre sono ben altre. Dipende anche dall'esperienza. Ovviamente dovete essere bravi a capire che quando avete appena iniziato, se non sapete che cifra fare vuol dire che avete appena iniziato. Quindi se non sapete che cifra fare e fate una cifra molto alta, ci può stare che uno la spari perché il ragionamento che spesso faccio anch'io, io vi dico, io chiederei 2000 perché io dico se accetti mi paghi bene, se non accetti non lavoro come un cane per una cifra che non mi piace. Quindi il mio ragionamento è questo, è semplicissimo. Nel momento in cui voi chiedete 2000, attenzione, l'azzardo potrebbe essere valido perché voi dite ugualmente, dite, oh se accetta mi becco un sacco di soldi. Però se poi il lavoro non lo sapete fare, fate una pessima figura e vi bruciate un sacco di clienti nel futuro. Quindi questa è una cosa a cui dovete stare attenti. L'ultimo punto che vi porto oggi, l'ho lasciato per ultimo volutamente perché secondo me ci sono altre cose più importanti. La competenza, l'esperienza, dove vi trovate e capire quanto il vostro cliente è disposto a spendere. Vi voglio però dare una piccola leva, un piccolo trucchetto per cercare di portare acqua al vostro mulino e per cercare di far percepire al cliente quanto vale il vostro servizio. Questo ragazzi è molto triste da dire, è molto brutto, però lo sappiamo tutti quanti, lo sapete benissimo anche voi. Ormai la zia Ernesta è andata in tutte le aziende e da tutti i privati della vostra zona e ha fatto vedere a tutti quanti che si fanno benissimo le foto col cellulare anche grazie ai consigli che le avete dato voi. Quindi è diventata bravissima, è andata da tutti a dire guarda che belle foto che posso fare col mio iPhone, potresti fartele anche tu. Quindi ormai lo sanno tutti che si possono fare le foto da soli. Come facciamo a convincere un cliente che noi le facciamo meglio? Con dei risultati palesemente più belli? No. No, perché il bello è soggettivo, il cliente preferirà le foto che ha fatto da solo con l'iPhone solo per il fatto che se le è fatte da solo e solo per il fatto che non le ha pagate. Quindi preferirà quelle alle vostre automaticamente. Questo è implacabile, è sempre così. E allora come facciamo? Qual è il trucchetto per far percepire al cliente che noi le facciamo meglio? Roba, ragazzi, la roba, la strumentazione. Nel momento in cui io vado da un cliente e mi porto quattro luci, quattro steli, quattro ciabatte e mi porto il trigger per il flash, e mi porto i filtri, e mi porto i modificatori, e mi porto magari anche un team, mi porto una MUA, una stylist. Insomma, quando gli faccio vedere che ho messo giù della roba affinché le foto venissero meglio, quello ci permette di alzare la cifra. Purtroppo è brutto da dire, ma la roba ci permette di alzare la cifra. Se io andassi a fare tutti i miei servizi fotografici con l'iPhone, mi darebbero 110 euro. Invece nel momento in cui io dico, no, guarda, io vengo magari con, veniamo in tre, abbiamo due fotocamere a testa, totale della strumentazione 30.000 euro. Veniamo con un sacco di obiettivi, con le luci, gli stativi, i microfoni, i modificatori, le ciabatte, i trigger, wireless, palle varie. A quel punto dici, guarda, io con la roba che ti metto giù è evidente che voglio questa cifra. La strumentazione è un gancio molto forte per dire al cliente, guarda, il mio servizio costa tot. Le persone che porti con te, anche, sono un gancio molto forte per dire al cliente, guarda che il mio servizio vale così. Attenzione, vi do un piccolo tip. Non permettete mai al cliente di dirvi, ah, ma venite in due. Questa è una cosa che a me è successa spessissimo, un paio di volte ci sono anche cascato. Ah, ma venite in due, vuoi 4.000 euro? Perfetto, vieni solo tu, così ti do 2.000. E questa è la più grande fregatura che vi possano rifilare, perché vi hanno dimezzato la vostra efficacia e vi hanno dimezzato il compenso, quindi farete il doppio della fatica per la metà dei soldi. Questa è una cosa che assolutamente non gli dovete permettere. Quando un cliente dice così, la risposta da dare è no. Io lavoro col mio team e lavoro a modo mio. Se tu mi fai lavorare male, ti costa 8.000 invece di 4. Gliela mettete giù così, vedete che o se ne va, oppure accetta i 4. E se se ne va, non ci avete perso voi, ci ha perso lui. Questi sono, grosso modo, i miei consigli per cercare di capire come orientarsi nel labirinto dei prezzi. Cercate di capire il vostro cliente quanto è disposto a spendere. Nei casi più disperati glielo potete anche chiedere. Questo è un altro trucchetto che vi dico. Io vado dal cliente e gli dico, che budget hai? Fammi capire un po'. E gliela metto dal punto di vista di, guarda, io costo tanto. Gliela metto giù così, poi dipende dal cliente. Magari per quel cliente lì, quello che per me è tanto, per quel cliente magari è poco. A me è capitato di chiedere 1.000 euro per una giornata di lavoro e avere il cliente che dice, oh sì, 1.000, va bene, va bene. E lì ho capito che avevo sbagliato, potevo chiedergli 1.500, 2.000. Però io posso chiederglielo. Posso dirgli, guarda, io costo tanto, tu che budget hai per fare sto lavoro? Glielo chiedi, il cliente ti dice, guarda, abbiamo un budget di 800 euro. Tu gli dici, ah, 800, sì, guarda, ci sto dentro al pelo. Però, 800, però una sola tornata di modifiche e poi vi tenete le cose così come stanno. Cioè, metti anche tu una condizione e dici, io ti pago poco, benissimo. E io a mia volta mi riservo di dire, va bene, però io ti faccio il lavoro, te lo consegno, poi non ci sono 100 tornate di modifiche. Te le faccio una volta ed è chiusa lì e non siamo più parenti. E ci si mette d'accordo anche così. Io spero che questo video vi sia stato utile per capire, per cominciare a capire, che tipologie di prezzi fare ai clienti che potete trovare vicino a voi, sul territorio dove vi trovate, dove operate. Spero che sia stato utile. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti se avete domande, curiosità su quanto detto in questo video o in altri contenuti. Io cercherò di rispondere a tutti quelli che posso, alle domande più interessanti con dei contenuti shorts verticali, per cui vi ricordo anche di iscrivervi al canale. Signori, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do, come sempre, appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.